amici di centro del telecomando buongiornissimo e oggi è il caso di una dacia duster senza radiocomando e noi ci siamo riusciti la storia ciao toni ciao francesco e buongiorno abbiamo riprodotto un telecomando di una duster il cliente era stato in diversi centri scusi era stato in diversi centri ma nessuno era stato in grado di riprodurre questo telecomando grazie questo telecomando perché per chiedere il mestiere sa benissimo che non è un telecomando facile da riprodurre noi abbiamo fatto un nuovo telecomando il cliente aveva soltanto la chiave ma in più abbiamo fatto una modifica c'è praticamente il cliente adesso potrà aprire la macchina da casa sua perché abbiamo potenziato pure il telecomando una modifica elettronica e lavorare funzionamento vediamo se tutto funziona regolarmente ecco qua franco e prima anche la messa in moto vediamo la messa in moto franco quindi per la parte elettronica del trasponder eccoci qua in macchina vai con la messa in moto franco vediamo se tutto francesco comunque francesco degli amici franco anche la messa in moto andato bene e allora cosa dire da salvo e francesco è tutto ciao toni ciao toni grazie ancora al nostro amico per averci scelto grazie grazie toni e dei nostri a presto grazie